No, non è vero, io non ho niente da riprovarmi, mi sembra aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale, voglio dire, non l'ho mai rubato, neanche in casa da piccolo, non l'ha abbattato nessuno, figuriamoci. Lavoro, famiglia, pago le tasse, non mi sembra avere delle colpe, non l'ho mai fatto neanche l'assessore, per dire. Come? Ah, voi parlavate di prima, prima, prima mi sono comportato come tutti, non so, come mi vestivo? Mi vestivo come ora, ecco, ma magari non proprio come ora, un po' più, sì, jeans, un maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo, non so. Come? Cosa cantavo? Oh, questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo, anche canzoni popolari, sì. Ciao, bella, ciao. Devo parlare più forte? Ciao, bella, ciao. E anche l'internazionale, sì. Però in coro, eh. Sì, quello sì che l'ho, l'ho ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io, gli untillimani. Però non ho pianto. Come? Se in camera ho delle foto. Certo, c'ho le foto dei miei genitori, di mia moglie, di miei... Manifesti? Un ricordo. Forse uno, piccolo, poi. C'è che vale. Ma cos'è? Un processo, voglio dire, eh? No, no, quello no, mi dispiace, ma io il pugno non l'ho mai fatto. Il pugno, mai, 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 mai. Forse una volta, ecco, un pugliettino piccolo, proprio. Come? Sera comunista? Mi piacciono le domande dirette, eh? Volete sapere se ero comunista? No, no, finalmente, perché adesso non ne parla più nessuno. Tutti fanno finta di niente. Invece è giusto chiarirle queste cose, non l'altro è tutte. Sera comunista. In che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema non esigeva, il teatro non esigeva, la pittura non esigeva, la letteratura anche, lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gliel'avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano, ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operario. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no. domani forse, ma dopo domani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato la zera in classe. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo Secondo Liegia. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli anni. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché non stanno peggio che da noi solo Ruganta. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più dichiarare i danni di governo, diremmo cristiani, incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italia, l'Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniava a chiamare l'Evocazio. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcuno. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se l'erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo. Perché era disposto a cambiare ogni giorno. Perché sentiva la necessità di un amare diversa. Perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio. Un desiderio di cambiare le cose. Di cambiare la vita. Qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare. Come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana e dall'altra il gabbiano senza più neanche l'intenzione del volo perché ormai il sogno si era trappito. Due miserie in un corpo solo.